Pasta con crema alla norma e pancetta croccante. Per prima cosa grattugio la ricotta e la metto da parte, olio in padella, spicchietti d'aglio, una volta dorati spengo e li tolgo. Una volta intiepidita la padella aggiungo i pomodori pelati, riaccendo la fiamma, metto le foglie di basilico, il sale e faccio cuocere per 15 minuti a fiamma medio-bassa senza coprire. Nel frattempo taglio le melanzane a pezzetti, le frigo in olio di semi di arachidi, le tolgo quando saranno belle dorate e le metto su carta assorbente. Ora metto la pancetta in una padellina e la faccio abbrustolire, poi salo l'acqua, metto a cuocere la pasta, nel frattempo nel bicchiere del mini-peamer metto i pelati, le melanzane, le foglie di basilico, la ricotta salata grattugiata, mescolo, frullo tutto e rimetto in padella. Ora scolo la pasta, la unisco alla crema alla norma e mescolo, poi spengo e metto la pancetta croccante, ultima mescolata in piatto ed in ogni piatto grattugi un bel po' di ricotta salata stagionata. Ed ecco qui, che delizia! Buon appetito!